buongiorno come state benvenuti su uncinetti allo sbaraglio oggi vi presento due accessori molto sfiziosi da realizzare molto veloci una collana e un bracciale effetto maglia tubolare ma maglia tubolare non è sono stati realizzati con del cordino un cordino da borsa di quelli in cotone nel mio caso è diciamo nocciola glitterato ed è un progetto molto semplice utile anche per riciclare gli avanzi diciamo delle lavorazioni delle borse se ci avanza un po di filato possiamo pensare di realizzare questi oggetti per coordinarli alla borsa procedimento è molto semplice però prima di parlarvi del progetto mi raccomando iscrivetevi al canale se non l'avete fatto attivate la campanella condividete anche il video con parenti amici tanto non costa nulla però fate crescere il canale detto ciò vediamo un attimo che cosa ci serve come abbiamo detto del cordino in cotone possibilmente ma si possono sperimentare anche altri materiali un marca punti un centimetro per quanto riguarda la collana la collana un diametro di 60 centimetri quindi per poterla lavorare dobbiamo andare a montare una catenella senza multiplo lunga almeno 60 centimetri perché deve essere infilata dalla testa una volta chiusa il circolo andremo a lavorare con tutte maglie bassissime per quanto riguarda invece il bracciale dobbiamo andare a prendere la misura del polso con un centimetro e aumentare vedete io non ho il polso molto grande circa 16 nemmeno 16 centimetri 16 e mezzo andare a aumentare la lavorazione di un centimetro e mezzo due perché questo perché nella lavorazione con la maglia bassissima il lavoro tenderà a restringersi detto questo partiamo con una catenella sufficientemente lunga per poter realizzare bracciale nel realizzeremo appunto insieme bracciale e vi darò le indicazioni per realizzare la collana e bracciale perché è un po più rapido realizzarlo e e quindi molto più veloce sicuramente consuma meno materiale partiamo quindi con la nostra catenella lunga sufficientemente per per il nostro polso e poi ci vediamo qui allora ho montato la mia catenella vedete è lunga circa 19 centimetri potrebbe essere sufficiente per il mio polso una volta montata la catenella io sto usando un uncinetto del tre e mezzo per un cordino i cordini classici da borsa comunque intorno al tre e mezzo quattro vengono lavorati con uncinetti del tre e mezzo quattro quindi ci siamo devo chiudere in cerchio sono diciamo gioiellini che vengono infilati e vado a chiudere con una maglia bassissima sposto un po gli oggetti sotto il piano di lavoro vado a chiudere a maglia bassissima nel primo punto della catenella per chiudere il mio circolo ecco qua perfetto poi in ogni punto della catenella devo andarmi a lavorare una maglia bassissima faccio attenzione a non saltare nessun nessun punto allora come abbiamo detto non c'è multiplo non esiste nessun multiplo e devo fare questo passaggio il primo passaggio è ripassare quindi tutta la catenella con la maglia bassissima e ci ritroviamo a inizio giro a dopo concluso il mio giro vado a verificare che il mio bracciale entri perché come abbiamo detto se io vado a lavorare con la maglia bassissima cosa succede che la mia lavorazione tenderà a stringersi ok infatti nel braccialetto vedrete che poi con il passare dei giri il lavoro tenderà ad arricciarsi proprio perché si tende a stringere una volta concluso il mio giro per comodità io lo faccio metto un marca punti nella prima nel primo punto del secondo giro io già l'ho fatto cosa succede adesso dobbiamo andare a lavorare in modo concentrico 10 giri 10 giri di maglie bassissime allora per quanto riguarda il braccialetto potremmo anche farlo più sottile cioè nel senso che potremmo fermarci prima perché con il passare appunto con l'aumentare dei giri il bracciale si richiuderà su di sé avendo un minor numero di punti e quindi la lo spessore aumenta velocemente però siccome l'ho coordinato alla collana la collana è composta appunto da dieci giri anche questo sarà di dieci giri quindi una volta fissato il marcatore marca punti andiamo a lavorare prendendo l'asola superiore della maglia bassissima che ho sotto e continuo a lavorare come ho fatto per il primo giro in questo modo entro nell'asola tiro fuori il filo entro tiro fuori il filo entro tiro fuori e lo si fa per dieci giri ok ci vediamo alla fine una volta conclusi i miei giri di lavorazione e bracciale assume questo aspetto questo è il verso su cui io ho lavorato ma sarà la parte interna del mio bracciale in pratica all'esterno è questo ok allora cosa succede io ho visto dei bracciali realizzati con questa tecnica si gira semplicemente il lavoro e quindi il bracciale resta bello così fermo se non che nel momento in cui io vado a lavorare la collana questo effetto non lo tengo perché i giri diciamo il diametro della collana e di gran lunga molto più grande del bracciale per poter appunto dare questo questo effetto tubolare io devo effettuare una cucitura in questo modo allora vi rifaccio di vedere quello che ho sono arrivata all'inizio del giro e marcapunti mi è servito proprio da linea guida dei giri adesso devo cucire in questo modo i due lembi del del bracciale rientro con l'uncinetto sulla catenella iniziale e vado ad agganciare l'asola dell'ultimo punto che ho lavorato in questo modo la tiro qui chiudo stringo e devo andarmi a ripassare spero si sia visto tutti tutto il diametro del mio bracciale con delle maglie bassissime in questo modo ok mi aggancio qui il cordino iniziale lo posso poi infilare dentro per poterlo poi nascondere durante la cucitura quindi prendo la catenella da questo lato la maglia bassissima dell'ultimo giro lavorato catenella maglia bassissima ok anche se mettiamo il caso saltassimo qualche punto dato il diciamo il movimento del nostro bracciale fatto che sia cartocci comunque non si noterebbe sarebbe ancora meglio lavorare questi gioielli con del filo elastico esistono in commercio dei filati elasticizzati e quindi esteticamente cioè sono molto simile a questi cordini solo che appunto hanno la componente di elastico che rende più facile appunto l'indosso e anche se uno sbaglia leggermente la misura potrebbe andar bene però detto questo noi continuiamo in questo modo per tutta la circonferenza una volta finito la mia cucitura posso tranquillamente tagliare il filo e il bracciale pronto così come se io avessi lavorato la collana avrei dovuto fare la stessa cosa ci vediamo per vederlo ultimato a tra poco una volta cucito tutto il bracciale sono andata a chiudermi con le mani bassissime ho fatto la cucitura e finalmente il bracciale pronto per essere indossato la parte della cucitura fate attenzione che venga diciamo nella parte interna del bracciale però l'effetto è garantito bellissimo adesso ne ho addirittura due il primo risulta più stretto quello che io vi consiglio è comunque andare a lavorare due o tre centimetri in più rispetto alla circonferenza del polso vedete questo sono io un polso su meno di 17 16 centimetri sono andata a farmi una catenella all'incirca come avete visto prima 19 20 centimetri comunque bello aderente quindi aumentate un pochino i centimetri fate le prove durante la lavorazione adesso li lascio su e se in caso sono un pochino stretti mi raccomando sfilate e aggiungete almeno un altro centimetro quindi questa è la mia idea il i due bracciali li ho qui la collana e qui quindi ho il mio coordinato spero che vi sia piaciuto questo lavoro se così mi raccomando attivate la campanella e restate aggiornati sui miei tutorial buona creatività da uncinetti allo sbaraglio alla prossima